Dalla Lombardia al Veneto per sentire il governatore Luca Zaia su diversi temi che riguardano sia la Lega Nord che la politica regionale e nazionale. Torino si chiede per quanto riguarda le regioni se ci saranno rimpasti tra PDL e Lega nelle regioni in cui si governa con questi partiti. Io lo dico con chiarezza, noi siamo concentrati sul programma di governo che è una cosa seria, la cosa più seria, che viene prima dei partiti, della segreteria di partito, dei dibattiti, di tutto quello che non c'entra nulla con la seria amministrazione. Se qualcuno pensa di mettere in discussione il programma e gli impegni con i Veneti o di cominciare a venire lì col bilancino di parlare di maggioranza e altre cose, sa benissimo che c'è solo una via per quanto mi riguarda, si va a votare. Io dico questo, dico che rispetto alla partita della segreteria innanzitutto c'è una prima scadenza e guardiamo le cose come stanno che è il 30 di novembre e si verificherà quali saranno i candidati. Lo dico nel rispetto anche di Salvini perché comunque c'è il tema della raccolta delle firme. Dopodiché non credo alle pacche sulle spalle, credo che dobbiamo arrivare a un candidato unico che è la soluzione migliore per il nostro congresso. Perché inevitabilmente un confronto con più candidati e con più anime rischia poi di trasformarsi in futuro, in correnti e cose che non hanno mai caratterizzato la Lega.